Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con una breaking news in A11, sono 10 i chilometri di coda con tendenza all'aumento per incidente tra Monte Catini Terme e Prato Ovest verso Firenze, sono coinvolti tre mezzi leggeri, caraggiato opposta tra Prato Oeste e Pistoia, rallentamenti per curiosi, verso Firenze per viabilità esterna che non riceve, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. E arriviamo in FIPILI dove troviamo coda a tratti per traffico verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandici. Sempre in FIPILI ricordiamo che dal 20 ottobre ripartono i cantieri tra Montelupo ed Empoli Est, dal 20 ottobre al 6 novembre sul tratto saranno chiuse le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni e sarà chiuso lo svincolo di Empoli Est in ingresso in direzione Firenze. Dobbiamo salutarci per il traffico urbano di Firenze, possibili disagi per incidente segnalato su Via Le Righi. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana in Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.